Eccoci con Nino Neri, allora Nino, la vita sentimentale in questo momento come va? A gonfie vere, ho superato il record dello scorso anno, avevo 4 relazioni e quest'anno c'erano 4,5 Perfetto, la vita sessuale di Nino Neri come sta andando? A gonfie vere In che senso? Migliorata rispetto all'anno scorso? Sì Con quante donne riesce a farlo contemporaneamente Nino Neri? Con una Con una sola, non riesce a farlo con più di una? No, mi concentro con una Con una, perfetto, e allora Nino Neri, la sua vita, un resoconto veloce della sua vita? Siamo un mazzetto veramente No, non faccia il pessimista, perché è così pessimista? Ecco, ci saranno dei lati positivi nella sua vita Non vedo nulla di positivi in questa città, c'è Domenico Mazze che scaccia mentole con la pizza No, quello non c'entra, scusi Ah, non c'entra con Domenico Mazze Fa parte della sua vita, però no Ah, no No, assolutamente no È un amico È un amico, è un amico Senta, questa è stata Dammi del tu, dai No, no, le voglio dare del lei Mantenevo le distanze Voglio darle del lei Voglio darle del lei E dove la passerà quest'estate? Cosa farà quest'estate? Andrà al mare?